Ho sbagliato strada. Las Vegas, strano gioco del destino, proprio lì la scommessa è più difficile, scoprire la verità, quella leggenda che mi terrorizzava da bambino, forse non era una menzogna, devo sapere, non posso continuare a fuggire, la verità, sento che la verità è più vicina di quanto sembri. Scusa, vi dica buon uomo. Mi sa dire dove è Las Vegas? Certo, sono 500 chilometri più in là. 500 chilometri? Certo, io ci stavo andando di corsa. Vuole seguirmi? Buon uomo, seguirmi. Cosa vorrà dire questo eccentrico individuo? Ma che diavo, non vorrei mai che la leggenda, quella leggenda... Eppure c'era qualcosa in quel corridore del deserto? Perché proprio nella Valle della Morte ho uno strano presentimento, forse non è stato un incontro casuale, forse voleva dirmi di più con quella bizzarra proposta. Beh, volete sapere com'è finita? Alla fine, quel giorno tornai indietro, accettai di seguire quello strano individuo. Fu un lungo viaggio, ma a Las Vegas ci arrivammo. Ogni tanto il nuovo amico spariva dalla circolazione, poi riappariva così, dal nulla. Non ho mai saputo dove andasse, ma era un tipo regolare. La leggenda, beh, è la leggenda non scoprì un granché, ma si sa, le leggende sono solo cose da bambini. Grazie a tutti.